Giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Nel PMI Day, gli studenti degli istituti napoletani si dedicano a gettare l'occhio verso il mondo del lavoro, che un domani li vedrà reali protagonisti. In questa direzione si è tenuto, nella sede dell'Unione degli Industriali di Napoli, in Piazza dei Martiri, un dibattito alla presenza di 200 studenti iscritti a diversi istituti partenopei. Un'iniziativa organizzata da Piccola Industria Nazionale, in collaborazione con le associazioni di Confindustria. Importanti referenti di note aziende hanno risposto alle domande dei ragazzi. Ha assegnato un premio alla memoria di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista dell'orchestra Scarlatti ucciso in piazza al municipio per mano di un giovanissimo criminale. Il premio GioGio si chiama così, è andato al migliore elaborato dedicato al concetto di libertà connessa al lavoro. E grazie alla collaborazione del Calcio Napoli, il primo classificato accederà per un giorno al Konami Center di Castelvolturno. Ai nostri microfoni il presidente dell'Unione degli Industriali, Costanzo Iannotti Pecci, e il presidente del gruppo Piccola Industria, Guido Burrelli. Occorre essere sempre pronti a cogliere tutti gli aspetti che la cultura ti offre, perché cultura è libertà come lavoro è libertà. e quindi questa interazione col mondo delle imprese serve anche a far capire quanto sia importante prepararsi al meglio per entrare nel mondo del lavoro. Veramente è stata una bellissima giornata ricca di spunti e di approfondimenti per sperare in un futuro un po' più in discesa per questi studenti che si dovranno affacciare sia nel mondo del lavoro ma nella vita vissuta di società civile. Grazie a tutti.